Buongiorno a tutti, oggi Allegrone Immobiliare vi propone una casa sita nel comune di Giosciago, provincia di Pavia, e più precisamente la frazione è quella di Guinsano. Guinsano è una frazione prevalentemente popolata da persone che prima abitavano a Milano. La scelta di venire ad abitare in questa zona è semplicissima, perché c'è una stazione ferroviare che si chiama Stazione Certosa di Pavia. Fino a novembre del 2011 i treni che si fermavano erano i treni regionali. Da dicembre 2011 c'è anche la metropolitana leggera, chiamata S13, che si ferma in Milano Bovisa, e la metropolitana leggera passa dalle 6 fino alle 22, ogni mezz'ora. Quindi questa casa è ideale per le persone che lavorano a Milano e non gli pesa spostarsi con il treno. La stazione ferroviaria dista soltanto ad un chilometro, quindi è molto vicina. Qua stiamo parlando di una casa semi-indipendente in un contesto di corte. La casa è circa 110 metri quadrati, quindi è adatta ad ospitare 4 persone. Se confrontate i prezzi con Milano e Bovisa, qui vi renderete conto che risparmiate circa 100.000 euro. E risparmiare 100.000 euro vuol dire non vivere per pagare il mutuo. Che dire di questa abitazione? È stata ristrutturata da meno di 10 anni e qui non ci sono spese condominali. Il paese è un paese di campagna, di rumori non se ne sentono, soltanto gli uccellini ogni tanto qualche macchina che passa. Venire ad abitare qua vuol dire risparmiare soldi e guadagnare in salute. Riferimento V0040 Giussago, allevroni immobiliare 339-1916-332. Non è questo l'immobile che c'era, che le altre offerte su bilocalipavia.it. Riferimento V0040 Giussago, allevroni immobiliare 339-1916-34. Grazie.